... ... ... ... ... ... ... ... via, via, via la sera ci disse, ci disse che fira la seconda in più signora, una seconda dai, qua, qua, ben seri Emilio, Emilio benissimo Fate l'appello e dite l'assenza di tre filiata, per quale motivo? Cioè tu ti scrivi in un sindacato e poi non per la manifestazione di una cosa questa qua? Fate l'appello e dite l'attenzione di tre filiata. Fate l'appello e dite l'appello. Fate l'appello e dite l'appello. Fate l'appello e dite l'appello. E allora il problema è quello, ma io non ho detto, forse mi sbaglio, perché non conosco tutti i lavori, quindi queste, ancora una volta, io te lo chiedo, guarda, tu non mi chiedi, ma forse non mi ricordo buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Dovete spostarvi in fondo perché la piazza non ce la fa contenere questa presenza di lavoratori e cittadini di Messina nel territorio messinese. Possiamo e non siamo messinese, sì siamo noi! Diamo la possibilità a tutti di accedere! Grazie!